carissimi bentornati sul mio canale youtube per qui per descrivervi la seconda parte della della riparazione dell'icom at 180 come vedete ho smontato i motorini passo passo della della mitsubishi perché ipotizzo che il problema sia non in uno di essi ma in entrambi è un problema descritto descritto in rete praticamente c'è una una parte di dell'ingranaggio di questi di questi motorini che che col tempo si usura ed inizia a slittare e quindi va vanno vanno sostituiti ed in rete è possibile trovare in base alla referenza appunto di questi motorini che è questa qui mettiamo un po mp 28 ga è possibile trovare i motorini in sostituzione e oppure procedere con l'apertura attraverso i motorini questa questa ghiera viene mantenuta da da quattro punti basta senza forzare troppo basta inserire un piccolo cacciavite fisso qui in questa fessura fare un po di forza allargare mano mano tutti e quattro i punti e viene fuori e viene fuori questa ghiera di protezione all'interno c'è il meccanismo e mi raccomando di fare di fotografarlo eventualmente vi trovaste nella mia stessa condizione di fotografare la posizione dei vari delle varie corone e per poi qua l'occorrenza dopo aver finito il lavoretto che andrò a descrivervi rimontarlo la luce purtroppo è carente ecco vi passo a far vedere l'interno di questo motorino passo passo in realtà questo meccanismo era praticamente bloccato all'interno del del motorino e forse per la grossa quantità di di grasso lubrificante di liquido lubrificante che c'è che c'è all'interno e probabilmente stando fermo per parecchio tempo si era si era incollato si era incollato che cosa che cosa per evitare problemi futuri metterò una goccina di collante cianoacrilico qui alla base di questo di questo perno e provvederò a bloccarlo per bene così da non dover rifare in futuro da non doverci rimettere mano in in futuro questo qui è già stato aperto e richiuso è stato lubrificato attenzione a far accentrare bene questi pernetti che vedete qui questi quattro pernetti e soprattutto attenzione alla giusta sequenza del nel rimontaggio di queste di queste corone